bocconcini di pollo burro e salvia circa 300 calorie a porzione per ingredienti quantità e valori nutrizionali visita il nostro sito e adesso cuciniamo porre le foglie fresche di basilico e di salvia spezzettate in una ciotola aggiungere il sale ed il pepe il succo di limone appena spremuto ed infine l'olio extravergine di oliva mischiare bene tutti gli ingredienti e tenere da parte il composto ottenuto in un'altra ciotola e usando le mani infarinare il pollo tagliato a bocconcini e tenere da parte la farina in eccesso in una padella antiaderente su fuoco medio sciogliere il burro ed aggiungere sale e pepe incorporare bene il sale ed il pepe nel burro fuso prima di coprire la padella sul burro fuso aggiungere foglie fresche di basilico e di salvia prima di mischiare il tutto con un cucchiaio e di cuocere coperto e a fuoco medio per un minuto dopo un minuto aggiungere la scorza di limone e metà del vino bianco mescolare bene gli ingredienti in padella per concentrare gli aromi e di nuovo coprire per qualche istante il sugo ottenuto non deve bruciare adesso aggiungere i bocconcini di pollo alla preparazione e mescolando incorporare bene la carne nella preparazione di burro e foglie aromatiche di basilico e salvia lasciar cuocere qualche istante prima di coprire di nuovo la padella per un minuto aggiungere ora la farina riservata in precedenza e sfumare il tutto con l'altra metà del vino bianco mescolare bene con qualche giro di cucchiaio prima di coprire di nuovo per un altro minuto a cottura quasi ultimata correggere di sale ed aggiungere in padella foglie fresche di basilico e di salvia e metà della salsetta preparata all'inizio incorporare bene la carne nel sugo di burro ed erba aromatiche e finire la cottura a padella coperta presentare su un letto di rucola e spargere il resto della salsetta direttamente sui bocconcini caldi il pollo risulta deliziosamente morbido e non resisterete al profumo di burro basilico e salvia bon appetit